Una colonia di antichi greci in Abruzzo, in particolare nel territorio terramano, è questa la scoperta scientifica che consiste nell'avere individuato in quello che era l'antico Prutium, all'incirca l'attuale provincia di Teramo, una colonia di genti che parlavano il greco antico, in quanto nel dialetto terramano ci sono tantissimi termini come nomi di fiumi, montagni, paesi, piante, animali e manufatti. Sì, noi di solito conosciamo tutto sui Maya, sugli Aztechi, gli Egiziani, i Romani, ma non ci rendiamo conto a volte di quello che abbiamo sottipiti e di quello che diciamo. Il dialetto è una lingua vera e propria, poi specialmente quello terramano, che anche all'estero, mi dicevano alcuni docenti dell'università di Eindhoven, il dialetto terramano ha una ricchezza di termini impressionante. E quindi è nato da quasi 30 anni che inizia questo studio, quindi abbiamo individuato il greco antico, però era dimostrare chi erano, quali genti parlavano questa lingua. E quindi abbiamo quelle 5-6 ipotesi, e sono ipotesi veramente importanti. Qualsia delle 6 sia quella vera e clamorosa, diciamo. Passiamo i popoli del mare, che forse pochi conoscono, che hanno devastato l'intero Oriente, e alcuni vengono dall'Italia. Io poi cerco di dimostrare chi sono e dove riusciamo così a vedere qualcosa su quello che è l'archeologia, in special modo le stele. Nella ricerca si sono occupati esperti di notevole rilevanza nazionale e internazionale. Il linguaggio dialettale è stato usato per millenni in assoluta continuità, senza alcuna frattura o interruzione di un solo giorno. Il vecchio nome di termine era Petrut, e i Petrus in me erano felistei. E quindi cosa succede? Che forse la stessa parola interamio-produziorum, Petrut, potrebbe avere lo stesso significato di interamio fra i due fiumi. Quello che, diciamo, deve essere accettato in maniera anche dalla scienza, dagli storiografi. Però in questo arco di tempo io ho avuto le collaborazioni veramente tra i più importanti, parliamo di Lorenzo Bracesi, che è punto di riferimento di tutte le università. Lui sostiene che è la più grande scoperta del Mediterraneo degli ultimi 25 anni, lo dice lui. Per approfondire l'interessante tematica è stato organizzato un convegno che si svolgerà domani 16 dicembre a partire dalle ore 16 a Villa Capuani, a Torricella Sicura.